Il sistema ricettivo Ligure migliore livello riduce gli alberghi a 1-2 stelle e crea quelli di categoria più elevata. Inoltre la Liguria conquista sempre più turisti under 30. I dati emergono dai rilievi dell'osservatorio turistico regionale che fanno il quadro del settore evidenziando anche la presenza di 4.450 aziende con oltre 151.000 posti letto. Negli ultimi anni gli hotel a 1-2 stelle sono diminuiti del 22% a favore di quelli a 3-4-5 stelle e il turismo è cresciuto da 3,5 milioni di arrivi nel 2008 a 4,3 nel 2015. I turisti under 30 sono il 31%, la quota più alta, quelli fra 31 e 40 anni il 24,5 e gli ultra sessantenni sono l'8,2%. L'identikit del turista Ligure è quello di un giovane diplomato impiegato operaio che spesso sceglie i bed and breakfast. L'osservatorio turistico regionale gestito in collaborazione fra Regione e Union Camere ha presentato l'andamento dei dati in occasione degli stati generali dedicati allo sviluppo strategico del turismo in Liguria che sono stati preceduti da quattro tavoli di lavoro dedicati a prodotto e marketing territoriale, promozione e innovazione, miglioramento qualitativo dell'offerta recittiva e professioni turistiche, governance e patto regionale per il turismo. Le spese sostenute nel corso della vacanza dagli oltre 72 milioni di presenze turistiche stimati ammontano a più di 5 miliardi e 315 milioni di euro.